ciao a tutti spendo due parole per questo set di punte per trapano marcato moho le punte arrivano all'interno di questa confezione di plastica le vado a togliere al volo sono in totale 15 punte 5 punte hanno un diametro di 3 mm le altre 5 hanno un diametro di 4 mm le ultime 5 diametro di 5 mm sulla parte in alto della punta è comunque scritto scritta la dimensione come potete vedere questa qua se riesco a mettere a fuoco presenta la scritta hss3 quindi abbiamo il diametro di 3 mm andiamo a prendere un'altra questa qua invece c'è scritto hss4 diametro di 4 mm e vediamo si trova anche quella da 5 questa è quella da 3 questo dovrebbe essere quella da 5 no da 4 eccola quella da 5 questa qua la più grossa come vedete c'è scritto hss5.0 ve ne faccio vedere tutte e 3 da vicino in ordine di grandezza la 5 la 4 la 3 come vedete sono ben rifinite non ho trovato segni di sbavature di produzione di fabbrica abbiamo la parte esagonale che va a posizionarsi sulla punta del trapano e i materiali ecco due parole sono comunque materiali in acciaio con rivestimento in titanio e sono adatte ad effettuare fori su muri di casa e anche per il legno si possono effettuare un buchi e fuori anche sul legno plastica e alluminio devo dire che al tatto non so perché se magari qualche residuo dovuto alla produzione di fabbrica risultano un po' appiccicose sembrerebbe quasi che che ci sia una resina ma comunque come avete visto in termini vi faccio vedere anche le altre in termini di rifiniture sono abbastanza precise anzi devo dire che sono decisamente precise e non presentano delle sbavature ti mostro anche le altre giusto per correttezza eccole qua